Noi Jag! Cazzo! Porca troia! Cazzo, vieni, vieni, vieni! Vieni, 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 vieni! Sì, 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 sì. Ma tu non sapevi una volta le ondate dei Jag a memoria? Eh, ma io mi confondo sempre. 34, allora la prossima era 38. Cambiano tra le tre mappe? Eh, cambia, perché ci sono quattro categorie di mappe. Aiuto! Oh, il cane! Eh, io non so che cazzo è, ma mi stanno sparando. Non andare giù, non andare giù. C'ho l'auto, c'ho l'auto. Sono dato giù anch'io, eh. Non cadere dal camion. Non cadere dal camion. Sennò sono morto, sì, ok, perfetto, non sono caduto. Rianimami prima di farti vedere. È questo? È questo? Ma questo? Può capitare. Aspetta un po' che faccio questa cosa qua. Come? Come? Come cazzo ci è arrivato su questo cane? Qua sopra. Oh mio Dio. Ancora che non ho sbagliato a fare E. Ma tipo, se io sbagliavo a fare E che tu eri a terra con l'auto reanimazione, non finiva la partita, vero? Perché potevi rialzarti tu in teoria. Eh, sì. Finiva la partita, sì. Ah, finiva. Orcocamp, per fortuna che non ho sbagliato con la E. Sarebbe da nabbi sbagliare con lei, però. Eh, sì. Anche perché siamo a metà partita. Sì, sarebbe robestemmi più che altro. Corri, 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 corri. Corro, 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 corro. Piazzo la roba? No, no, non c'è tempo, non c'è tempo. Corri, corri. Va bene, va bene. Dobbiamo ricordarci. 38 jug allora, perché dobbiamo prepararci un attimo prima, eh. Perché adesso eravamo molto a... a filo. Sì. Siamo saliti sopra veramente... rischiato qua un po', eh. No, beh, ma comunque non era finita, perché tu avevi l'auto reanimazione. Io andavo in emoragia, ma tu ti tiravi su con l'auto reanimazione e mi reanimavi, giusto? No, ma me l'avevano tolta, a me l'auto reanimazione. Cioè, ero in auto reanimazione, ma mi stavano beccando. Ho dovuto spostarmi per non farmi beccare, e allora... Allora ce l'hai fatta. Sì, sì, ma comunque avresti spravvissuto, in teoria. Quindi non saremo morti, però ci abbiamo rischiato, quindi... Bisogna che facciamo attenzione al round jug, eh. 38. Poi è stato bello il tuo... Più vicini stiamo e più arriva da davanti. Jug, 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 jug! E poi l'elicottero dov'è adesso? Oh, cazzo, scusa colpa mia. Non piazzare! Colpa mia! Dov'è l'elicottero, dicevo? Ah, arriva dopo. Loro mandano l'elicottero quando vogliono. Hai visto che arriva? Eccolo. Sì, sì, serve. Ok. A posto. Vado a piazzare io? Sì, vai a piazzare te che io mi sto facendo qua un po' il culo della... Ci stiamo parlando un po' dietro anche. Ok. Allora metto un C4 qua. Due qua. Adesso che ho visto bene dove spawnano dal Predator, so più o meno dove mettere anche le Claymore. Cioè ho capito un po' meglio dove spawnano. Invece di metterla a caso adesso cerco di seguire un ordine logico, puoi buttarlo giù. Eh, è da te. Vedo, vedo. Ok. Vai, vai, buttalo giù. Tu intanto io mi prendo un attimo una banana e arrivo. No, aspetta, per risparmiare un po' di copri, un po' di RPG, poi lo butto giù subito. Vai, vai, tu buttalo giù. Vieni a guardare la scena con l'RPG. Arriva, 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 arrivo. Oh no, 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 cazzo. Eccomi. Adesso che gli elicotteri sono pesanti da buttare giù. Un colpo di RPG e poi il mitraiettore lo butto giù subito. Vai. Ora, io ho già sparato l'RPG. Vedo infatti già che fuma. È andato giù. Guardate, io ho una banana da mangiare prima che arrivino i tizi, se non mi arano. Aspetta un attimo, tu intanto intrattini pubblico. C'hai 24, 23, 22 secondi. Comunque ragazzi, vedete che questa partita sta avvolgendo verso una bella complicatezza totale. Un casino. Un casino. Ecco lì che mangia la banana mentre giochiamo. Dove? Devo reintegrare. Intento che fa venire. 2075. Che bei botti. Botti di capodanno. Dobbiamo giocare a capodanno a questo gioco. Sì ragazzi, l'unica cosa brutta di M.G. Adesso si può giocare solo in due. Perché se no è veramente... Sarebbero infiniti. Cioè in quattro vai avanti all'infinito. Beh non è mica detto eh, però... Però è abbastanza, beh, è un po' più facile. Pare che qui c'è comunque il fatto che sei obbligato a rianimare. Perché se no se non rianimi è. Quindi sarebbe anche un casino se uno solo rimane in piedi e tirare su tutti. Mi ha messo il C4 apposta. Vai RPG. Ah, stai andando a fare? Sto andando a comprare i colpi del RPG. Beh se vuoi lo butto giù io dai. Comunque se facciamo un po' di spawn... Ce l'ha con te? È meglio. Ce l'ha con me sì. 36, 37, 38 già che dov'è messa. 38, quindi in teoria adesso siamo tranquilli. Un altro round. Poi abbiamo il Jug. Poi siamo tranquilli. Adesso io guardo un po' le tazzine. Chi è la tizia che è raffigurata su queste tazzine? C'è una ragazza raffigurata sulle tazzine. No. Ok, qualcosina ho messo. Attento a girare in certi punti che ci mettono le Clamore nemiche, eh? E se ce ne mettono due di fila... Sì. Bruta cosa. Io se quando le vedo le sceppo. Come diciamo noi a Genova. Bene. Adesso il tempo è sempre uguale. Cazzo, non capisco perché prima si era tipo buggato. Notare la precisione di zombie veste. 68% di precisione. Non l'ho sparato un cazzo. Prenditi un attacco aereo. Per dopo? Sì, sì. Ma ho da tirare anche qua dentro. Vediamo un po' com'è il casino. Che adesso... Va bene. Facciamolo partire. Non mi ricordo se c'è adesso il Jug o la 38. No. Eh sì, serie di accoltellamenti. Convinto, mi raccomando. Allora, qua iniziamo... Eh, poi arriva il casino. Oddio, dietro, adesso sei tu. Adesso mi hanno dato sotto in basso a sinistra il bonus. Serie di accoltellamenti. Come se io adesso dovessi prendere e andare a accoltellare i tizi. Mi sembra affattibile. Come derivano tanti da dietro. Vuoi che tiro il attacco aereo? Nell'angolo. No, puoi tenertelo per dopo per il Jug. Va bene. Adesso non ti dà più neanche i nemici rimasti. Prima te li davo, sbaglio. Allora, io devo abbassarmi il volume del gioco perché non ti sento quasi mai quando c'è cazzino. Male, male. Sistema subito. Ti stavo chiedendo se... Bastardo. Ah, stavite, non gioco il volume. Ti stavo chiedendo se... Se... Ah no, niente. A posto, ho risposto già da solo alla mia domanda. Aspetta che abbasso un attimo l'audio perché... Così ti sento meglio. Vai anche a prenderti l'autorinimazione. Sì. Sì. Ecco, adesso ti capisco, dimmi tutto. Sì, salve. No, niente, ho detto... Ti stavo dicendo che mi sono risposto da solo. Quindi tutto a posto. Problema risolto. Ok. Allora, io metto adesso uno. Buttiamolo pure giù che intanto c'è il jug. Vai, vai. Ti aspetto sul... Sul carro qua. Sul furgone. Se vedi delle claymore all'entrata del coso sono mie, eh. Non sparare a quelle claymore. No, no, no. Spigliati una corazza per sicurezza. E vabbè, ormai sono qua. Vai, parti, parti, parti. Intanto lo attacco aereo. Non cadere dal camion mentre c'è l'azione perché abbiamo finito la partita. Te lo dico già. Te lo dico già. Stai da più da questo lato che sei più coperto. E se cade dal camion, in effetti... Beh, magari l'altro tira la flashbang. Io non ho flashbang, eh. Tu tieni d'occhio da quel lato lì a destra. Io da questo lato qua a sinistra. Ok. Prima gli omini. Gli omini che adesso sono invincibili anche loro. Ma vabbè. Porca puttana. Sto sparando. Eh, ci sono un sacco di omini qua. Eh... Qua devi far vedere quanto sei pro. Più li becchi in testa, più veloce vanno giù. A cosa, sti jug? Eh, no, gli omini. Ah, gli omini. E io infatti non li becco mai in testa. Vuoi che tiro l'attacco? Sì. Ma sì, dai. Ci togliamo già un po' di caldia. Tanto non moriranno tutti e tre i jug, vedrai. No? Mm. Ecco. Infatti no. Ne è morto uno. Beh, dai, con l'MP7. Poi qua gli fai praticamente headshot per N. Oh, cazzo. Sì. Quando ne rimane uno solo, lasciamolo, eh. Va bene. Oh! Tutto a posto. Cazzo è che esplode qua dietro. Ma tre nemici, scusa. Qual è il terzo? Ah, c'è anche quel tizio corazzato là. Quale dei due lasciamo? Quello piccolo? Sì, quello piccolo. Posto, fatto. Vado io. Ce l'hai una flash da tirare, no, la teoria? Beh, tira la tu, tira la tu. Ok. Stai lì, non farti beccare. Tranquillo, tranquillo. Cosa... Beh, piace tutto. Mi comprerei anche il flash adesso, perché... Ho 16.000 punti. 17.800, quindi... Divi quando vuoi che lo uccido, eh. Sì, sì, un attimo, che prima faccio tutto. Inizio a sparargli tutti i colpi sopra. Cioè, senza sta cosa qua del furgone, praticamente, sarebbe impossibile fare questi round. Eh, più o meno... Più o meno sì. Più o meno sì. Dimmi tu, eh. Ok. Vado? Io sono a posto. Ok, è a posto. Allora, mi compro già un po' di roba qua. Granate, flash, C4, claymore, corazza. A posto. Qua è già appietato tutto tu, vedo. Puoi chiamare una squadra? C'hai 5.000 per chiamare una squadra? Sì, c'è gli op, però non faccia tempo. Ma se passi dalla piazza ce la fai senza che ti tocca nessuno. Dici? Sì. Adesso sono ancora qua dalle armi. Vabbè, sta arrivando. Cazzo le claymore. Cazzo mi sparano, cazzo mi sparano. No, 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 scendo giù. Ok, allora abbi da stare più all'occhio a quelli dietro, eh. Sì, sì, sì. Sono tutti là. Ci penso io dietro, dai. Ok. Buon posto, mi sa che sono già morti. Hai messo delle claymore, roba tu, perché... Bene, io vedo che hai già adesso delle claymore qua dalla porta, perché non si sa mai. Sì, perché può passare qualcuno alle volte. Però penso che se ti metti lì non sparano le torrette lanciaganate. Ah, ok, allora mi metto dietro. Ah, perché non sparano, ho capito. Questo non me lo ricordavo. Comunque la mia torretta lanciaganate non sta facendo un cazzo, eh, te lo dico. C'è l'elicottero. Beh, infatti l'hanno distrutta la tua torretta. Però lì non faceva un cazzo, eh. Bastardo, bastardo. Vado io, vado io, vado a comprarmela. Metti anche le claymore laggiù? Faccio io, faccio io, faccio io. Ok, così io poi chiamo la squadra qua dietro, perfetto. 39 puliti, stiamo andando tranquilli. Abbastanza tranquilli. E convinti. Abbastanza tranquilli e convinti. Orca trota. Brina. Brina. Grazie.